L'AS numero 3 sono censiti circa 11.000 pazienti diabetici, suddivisi ovviamente tra Bassano, Marostica e Asiago. Sono le tre sedie presso le quali noi svolgiamo la nostra attività diabetologica. Diabete è una patologia in sconcertante aumento anche nel nostro territorio. Vita sedentaria, cattive abitudini alimentari, abuso di alcol e fumo tra le principali cause della malattia che colpisce in maniera cronica anche i giovani. Ad oggi sono 1.200 gli iscritti all'Associazione Diabetici di Bassano, la più numerosa del Veneto, ricorda la Presidente Maria Rosa Tamburo. La nostra attività sul territorio è forte, pregnante e importante. Lo danno i numeri che ho detto io degli oltre 4.000 controlli sulla glicemia che abbiamo fatto durante le giornate del diabete. Il diabetico non deve essere solo, il diabetico ha accanto una famiglia quindi anche la famiglia va educata e il diabetico va seguito e deve seguirsi, deve volersi bene soprattutto. Se da un canto in Europa l'Italia è uno dei pochissimi stati dove il diabete viene riconosciuto come patologia cronica e al diabetico viene fornito dall'azienda sanitaria tutto il materiale necessario alle misurazioni della glicemia e alla somministrazione di insulina, dall'altro diventa necessaria l'attuazione di un'apposita regge legionale. Che è una legge che mette dei paletti, probabilmente la prima in Italia, vengono suddivisi tre livelli. Un primo livello che è a gestione della medicina di base, medici di medicina generale, che hanno un compito estremamente importante per poi demandare l'eventuale paziente più complicato ad un secondo livello che sono le strutture diabetologiche di ogni azienda. Ci sono poi dei centri di terzo livello che sono nei capoluoghi di provincia che si occupano ancora in maniera più, come posso dire, precisa di alcuni aspetti estremamente particolari della malattia diabetica. A livello di cure e trattamenti la prevenzione assume un ruolo basilare per evitare anche una serie di complicanze che vanno a intaccare, oltre al pancreas già fuori uso, altri organi, i piedi, i reni, gli occhi. Uno degli organi bersaglio del diabete è proprio la retina. La prima cosa da fare nel momento in cui si verifica una retinopatia diabetica, si chiama proliferante, è il trattamento laser. Se non curata, porta irribediabilmente a sanguinamenti all'interno del corpo vitrio che poi devono essere immossi con difficili interventi chirurgici. Se poi non seguito e trattato in maniera corretta, può andare incontro al distacco della retina, alla perdita totale della vista.